Caglione ha detto che le parole delle canzoni sono liriche, finalmente ha trovato la parola giusta. Quando scriviamo canzoni, la canzone d'autore è un'opera che è talmente capace di comunicare delle emozioni forti, in modo diretto proprio, perché appunto c'è queste componenti, la musica e le liriche. Liriche perché? Perché in realtà non sono poesie, cioè la poesia è un'altra storia, è a fine, però è diversa, perché la poesia sta in piedi anche da sola, infatti la sfida di questo libro è di far diventare delle liriche. Poesie, insomma, non dico poesie perché ripeto la poesia è una cosa che io mi sento un po', in imbarazzo non mi sento un poeta, insomma, io mi sento uno che dà musica alle parole, insomma, la parola quando diventa musica, o la musica quando diventa parola, ebbe acquisto la potenza, secondo me, io sono stato travolto da questo amore da piccolo, per le canzoni, per la forma canzone proprio, per cui il testic, noi li chiamiamo testic, secondo me è anche un po' diminuente il testic, perché invece di dirgli, beh dirgli che è proprio la definizione giusta, lo frate è così, passami l'asciugamano, lo dice quello bianco lì sul divano, toffì, dai che c'è freddo il toffì, allora la domanda è, è mai arrivato con l'asciugamano? S blue trattanti e volta lì sul quang keporinio, video, la divisione, sasa e allora la domanda è che avevamo 5 onore a tutti e invece n all'ash keinerdi un po' wouldn't we inannah è così, guarda le famiglie, è sicuramente niente, eh? ma io nella domanda è un po' allo che fa tutto.